E' stata chiusa oggi l'ambasciata di Israele in Italia che ha sede a Roma in via Michele Mercati 14 nei pressi di Villa Borghese come accaduto in altre sedi diplomatiche di Tel Aviv. L'allarme è scattato in seguito alle notizie su possibili attacchi dopo il raid al consolato iraniano di Damasco in Siria in cui era rimasto ucciso il comandante dei Pasdalan iraniani Muhammad Reza Zaedi. Il centralino dell'ufficio consolare è rimasto inattivo anche nelle ore d'apertura al pubblico. La sede diplomatica era infatti stata sgomberata. Si tratterebbe comunque di una decisione autonoma presa in via precauzionale da parte della stessa ambasciata. L'esercito comunque continua a presidiare l'edificio blindato dalle pattuglie di militari sia dal lato di Viale Bruno Buozzi sia da quello di Via Luigi Aldrovandi. Quella di Roma è una delle 28 ambasciate israeliane che oggi ha riferito il Times of Israel. Sono state chiuse per il timore di una possibile rappresaglia iraniana.